Ottobre 2013, grande giorno per un grande personaggio, quindi dai del segno della biancia, ama stare con gli amici, lei è una ragazza semplice, dolce, simpatica e un po' lunatica, ama la cioccolata al latte, il suo colore preferito, il blu, fidanzata con Aurelio Agoglino e il suo motto è quello dei bimbi e lascia vivere. Allora ci alziamo tutti gli impiedi e l'accogliamo con un caloroso applauso e che poi, cari ospiti, Mary, sulle mani! Insieme, tanti amuri a te, tanti amuri a te, tanti amuri a Mary, tanti amuri a te, sulle mani! Tutti insieme, forza! Tanti amuri a me, tanti amuri a me, tanti amuri a me, tanti amuri a me! Tanti amuri a me, tanti amuri a me! Tanti amuri a me!